Bernini, allora oggi il presidente americano Biden, che Travaglio definisce sempre come un po' bollito, per usare un eufemismo... Ma si è ritirato per quello? Mica solo Marco, eh? No, lo so, lo so. Comunque Biden... Si è ritirato per quello? Biden e anche Kamala Harris, Biden intanto ancora il presidente americano, si sono detti pienamente impegnati per la sicurezza di Israele e ha detto anche che la storia ricorderà il 7 ottobre anche come un giorno buio per il popolo palestinese a causa del conflitto che Hamas ha scatenato quel giorno. Diceva giustamente, Marco ricordava che l'Unione Europea è praticamente muta e Macron ha detto ieri, mi pare, di sospendere l'invio di armi a Israele. Qual è il bilancio dopo un anno e dove si va adesso da domani in avanti? Allora, bilancio pessimo, sarò sintetico per tre motivi. Primo perché sta passando l'idea, ma anche nelle opinioni pubbliche, che la guerra è il mezzo normale di risolvere i conflitti. Quando sentivi la parola guerra, fino a pochi anni fa, dai bambini a tutti, quindi non il diplomatico, ti veniva orrore. Adesso è scoppiata la guerra, c'è la guerra, c'è la guerra, c'è la guerra. Quindi questa idea è dell'eteria. Secondo motivo di disastro è che è la sombra di due sconfitte. Non c'è dubbio, la nostra ospite ribanese l'ha detto, che le tre H, Hezbollah, Hamas e Uti, hanno subito per adesso sconfitte militari, in particolare Hezbollah, è evidente, a quale costo a Gaza lo sappiamo, ma non c'è dubbio che Israele per adesso sta vincendo. Ma secondo me Israele, e qui sono d'accordo con Anna Foa e col suo libro, rischia di, anzi, già sei isolato nel mondo e quando sei isolato nel mondo, isolato dai tuoi amici, hai un problema grossissimo. E quando alle Nazioni Unite parli e si vuota l'aula, hai un problema grossissimo. Questo è oggettivo, non è terzo motivo per cui il mio bilancio è pessimo, è perché anche in Italia le persone in una giornata come oggi, 7 ottobre, nei giorni scorsi, non hanno trovato il coraggio di dire che quello che è successo quel giorno è una cosa orribile, vergognosa, una schifezza tra le più orribili, quando sgozzi i bambini davanti ai genitori, uccidi le donne e tagli il seno, le violenti di fronte ai genitori e ai mariti, quella roba lì è talmente spaventosa. Il mondo che vuole difendere la casa palestinese dovrebbe esordire in questo modo, partire da qui, poi aggiungere tutto il resto. Il mondo arabo dovrebbe partire da qui, avere il coraggio di dire che questo è un orrore, perché se non lo fai dai le armi agli altri e quando vedo le manifestazioni in cui non solo non c'è questo coraggio ma addirittura applaudono Hamas, è una partenza pessima. Poi vogliamo dire che la reazione di Israele è stata orribile, io in questa trasmissione l'avrò detto 10 volte. Certo, ma devi partire da là perché altrimenti non sei credibile. Certo, ma devi partire da qui.